Buongiorno cari amiche, sono Letizia Barbieri. Nel video corso di oggi impareremo come realizzare da soli una mascherina da stencil. Ecco il materiale necessario per realizzare la mascherina da stencil. Foglio bianco di carta, matita, penna, pennarello, gomma, cutter, nastro adesivo di carta, tappetino da taglio e foglio di acetato. Come primo passaggio realizziamo il disegno matita sul foglio bianco. Quando siamo sicuri del nostro disegno ne ripassiamo i contorni con una penna o un pennarello. Riempiamo tutti gli spazi con un pennarello nero per avere esattamente idea di come sarà il nostro stencil una volta finito. Posizioniamo il foglio di acetato sopra il disegno fatto pennarello e lo fissiamo con il nostro adesivo di carta. Ricalchiamo nuovamente il disegno con il pennarello sopra il foglio di acetato. Posizioniamo il foglio di acetato sopra il tappetino da taglio e con il cutter incidiamo il disegno in ogni minimo particolare. Una volta intagliato tutto il disegno rimuoviamo le parti interne. Puliamo i contorni rimasti invisibili dalla traccia col pennarello con un batuffolo di cotone e alcol. Grazie a tutti.